Bene, eccoci in un nuovo lavoro del corso base Inventor 2018 ottenuto da me Pierangelo Russo. Dunque, chiaramente chi è arrivato a questo punto deve aver fatto precedentemente un percorso. Cosa facciamo oggi? Oggi facciamo il montaggio di questo motore. Questo motore, ok, che poi andremo a vedere nel dettaglio, qui ce l'ho già montato, noi adesso andremo ad eseguire un montaggio. Quindi il motore non è un vero motore totale, è solamente cilindro, pistone, albero e qualche annesso e connesso. Qual è lo scopo di questa esercitazione? Fare solo il montaggio. Per cui io vi do ora tutti i pezzi, li metto praticamente in questo link, questo link che però metterò anche qui sotto, dovreste trovare sotto il video nelle spiegazioni del lavoro di questo video. Dunque, noi quindi andremo a creare innanzitutto in Inventor, voi dovete crearvi un nuovo progetto. Quindi questo qui lo chiudiamo, non salviamo le modifiche. Allora, quando siete qui, voi dovete fare un progetto nuovo. Vedete, io l'ho già fatto, è motore russo e la procedura ve l'ho già spiegata più volte in tutti gli altri assiemi. Per cui comunque, in qualsiasi caso, voi fate nuovo, scrivete utente singolo, avanti, qui ci mettete il nome del progetto e qui ci mettete il percorso della cartella che è meglio che ve la create prima, sapete dov'è il percorso, quindi vi create il percorso, la selezionate, gli date ok ed è finita lì. Dunque, io quindi già, chiaramente la cartella dovrà contenere i pezzi già fatti che vi ho dato io attraverso Google Drive. Quindi, io in questo caso ho già il progetto attivo, vedete, motore russo, quindi se io faccio nuovo, io apro questa finestra già dentro e quindi. Come procediamo? Per fare quel motore io lo dividerei in due sottoassiemi, un assieme pistone e un assieme biella. Dopodiché farei l'assieme degli assiemi. Quindi, la prima cosa che facciamo adesso è fare l'assieme pistone, quindi standard IAM, crea, ok, faccio posiziona, posiziona, vado a prendermi, vi ho già detto che se voi non avete le icone potete andare qui, mettete icone molto grandi, le vedete così, ho anche icone grandi, le vedete così. Ok, vedete l'anteprima, potete scegliere. Io scelgo il pistone, apri, pulsante destro, posiziona fissato l'origine, ok. Dopodiché vado a prendere che cosa compete al pistone, sicuramente gli compete, l'anello raschia olio, mettiamo qui, esc, poi posiziona, posiziona, andiamo a prendere le fasce elastiche, che vedete sono due, una, una, due, ne mettiamo una qui e una qui, poi posiziona, posiziona, andiamo a vedere che abbiamo questo perno, ok, questo perno che andrà messo là dentro, dopodiché abbiamo, posiziona, posiziona, abbiamo i fermi che sono questi anelli, 1 e 1 e 2, ok, mi pare che non si debba mettere null'altro. Io ho tirato dentro, in realtà, il pistone è già assemblato, allora vado a fare questo lavoro, questo lo devo eliminare, e devo andare a posizionare, posizionare il pistone, i pt, io ho messo dentro l'assieme IAM già finito, quindi posiziono questo, apri, posiziona, posiziona, fissato l'origine, vedete, adesso aveva dentro, voi questo errore non lo potete commettere, perché partendo da zero non l'avete già fatto. Quindi andiamo adesso a posizionare con i vincoli che sono qui, e utilizziamo come vincolo principe di questo pistone, essendo una questione cilindrica, possiamo fare con inserisci, prendo uno di questi punti, ok, e vado nella sede, me l'ha centrato subito giusto e lo applico. Stessa cosa farò per gli anelli, uno qua, e lo applico, uno qua, e lo applico, ok? Fatto questo, adesso devo andare a posizionare questo perno. Questo perno ha in vista, diciamo, un piano, questo piano vuol dire che questo lavoro è stato fatto con un'estrusione su ambo i lati, quindi questo è il suo piano di mezzo. Quindi cosa significa? Che quando voi avete una situazione del genere e non volete andare a fare il calcolo di quanto lungo questo, di quanto lungo quello lì, quanto deve sporgere, cosa facciamo? Noi andiamo a posizionare attraverso che cosa? Due passaggi. Primo passaggio, vincolo questo con questo. Applica. Dopodiché questo qui è entrato dentro, ma può uscire. Ora, cosa farò? Abbinerò questo piano con il piano delle origini. Signore, qui è stato fissato l'origine. Per esempio, questo piano, vedete, ok, è un piano di mezzeria, quindi io dirò, vincolami, questo piano, con questo piano. Applica. Ok. Ora vado a mettere i fermi, questi anelli di fermo, e vado a fare vincolami. Con inserisci, questo, qui dentro, applica, identi qua, faccio la stessa cosa e dico, con questo vincolo, questa parte, con questa, vedete, se è andata dentro giusta, applica, è fatto. Benissimo. Allora, questo pistone, l'assieme pistone, è fatto, quindi vado a salvarlo. Chiaramente lo andrò a salvare sopra quello che già esiste. Quindi, assieme pistone, lo chiamo, lo chiamo anche questo, assieme al pistone, giusto per non confonderci, e gli do, su un salva, lo sostituisco, sì. Ok. No, non me lo fa fare, o sì. L'ha fatto fare, va bene. Allora, poi ora vado ad aprire, uno nuovo, standard IAM, crea, qui andrò a fare, l'assieme della biella, posiziona, posiziona, vedete che qui c'è l'assieme della biella, i pezzi della biella sono questo, apri e lo fissiamo all'origine, posizione, fissato all'origine, esc, poi posiziona, posiziona, abbiamo la testa della biella, apri e la mettiamo qui, esc, poi posiziona, posiziona ancora, non andiamo al centro contenuti, abbiamo dentro la vite, questa vite qui, speciale, la facciamo una e una due, poi andiamo a mettere dentro le bronzine, che sono questa qui, apri e la mettiamo qui, e poi le due semi bronzine, che sono queste, apri, apri, ne mettiamo una qui e una qui, ok, andiamo a procedere al fissaggio, a una cosa, questo non è che funziona solo il fissaggio, il vincolo di inserisci, non è che funziona solo per le parti cilindriche, funziona per le parti, ad esempio, può funzionare anche per, in questo caso, per esempio, se gli dico, fammi inserisci questo, con questo, io ho ottenuto, ok, applico, ho ottenuto, che cosa? L'appaiamento, già, non devo andargli a dire, questo piano con quel piano, però vedete che può ruotare, allora gli vado a dire, che cosa? Gli vado a dire, che, eh, vado a fare il vincolo, di questo, con, questo asse, ok, lo applico, ed è fatto, ok, dopodiché, vado a mettere le viti, sempre con quel vincolo, ok, questa la mettiamo qui, e, applichiamo, e, questa la mettiamo, qui, e, applichiamo, detto ciò, ci mancano adesso, eh, allora, ci manca queste, allora, attenzione, questa qui ha come misura, voi andate a fare ogni tanto delle, delle analisi, sul, la misura tra questo cerchio, questo cerchio, è di, 22, quanto è, da qui, a qui, è 22, quindi, vuol dire che io posso, con inserisci, eh, assembla, fare un vincolo, sempre di inserimento, tra questo esterno, e, attenzione, non questo, bensì questo, però, dalla parte opposta, ok, avete visto, la differenza, ok, dalla parte opposta, e lo applico, stessa cosa, adesso invece, devo unire questi due, eh, qui, ci sarebbe anche un errore, ma a noi, a noi non interessa, in questo caso, analizzare gli errori, di questo prefabbricato, ci interessa, fissare, imparare un pochino, il montaggio, cioè, renderci un po', veloci, nel montare, eh, il nostro oggetto, allora, rotazione libera, di uno dei due, ok, gli dico così, perché in realtà, questo qui dovrebbe coincidere qui, quindi, ecco, l'errore di cui parlavo, allora, adesso gli vado a dire, un vincolo, sicuramente, di, questo asse, con questo asse, applica, poi gli vado a dire, che, queste due superfici, vincolo, queste due superfici, questo piano, ok, con, attenzione, appaiandolo, con questo, applica, a questo punto, invece, metto, sempre un vincolo, di, coincidenza, di questo piano, contro, questo piano, quindi, l'ho applicato, ora, questo è come se fosse, un pezzo unico, ok, e posso dirgli, di, farmi questo vincolo, allora, quanto è l'altezza di questo, l'altezza da, da qui, eh, scusate, eh, devo prendere, analizza, misura, da qui, no, misura, da qui, a qui sotto, è di 18, quanto è la misura, da qui, a qui, è di 18, quindi, posso fare, lo stesso discorso, di, assemblaggio, con il vincolo, di, inserisci, praticamente, prendendo questo lembo, e mettendolo, con questo, ma dalla parte opposta, applica, ok, io, eh, termino, eh, questo video, qui, perché, vi rimando, al secondo video, dove faremo, il montaggio, insieme, eh, di, di tutto, e faremo, anche, un'animazione, del vincolo, al prossimo video, al video 2,